Buongiorno, oggi siamo a Bizzogzero, città di Varese, Italia, Italia. Il mondo è il connettore degli eventi di trasformazione. Siamo una famiglia nell'universo senza declino, senza complicanze. La forza che abbiamo sotto i piedi della Terra è in grado di generare eventi tellurici e alluvionali tramite questo influsso, questa forza, questo influsso gravitazionale. In quest'ordine di tempo andiamo in alto, i creatori extraterrestri arrivano dal pianeta Nibiru. Today it is January, oggi è il primo gennaio 2014. I am Gennaro Gelmini, bye bye. Mi conoscete Gennaro Gelmini? Gennaro Gelmini Gennaro Gelmini La Valle Olona da Bizzogzero Ze Olona Valley from Bizzogzero Gennaro Gelmini Gennaro Gelmini